Continua a ritmi serrati la preparazione in casa a Bellino Basket. La formazione Pina, ad una settimana dall'inizio della pre-season, a coach Grotti e il suo staff lavorano costantemente per costruire la giusta chimica. Un gruppo che hanno avvelato le proprie file uno dei giocatori più esperti, Federico Mussini, elemento che ha alle spalle esperienza nel campionato di Serie A A2 ed ha conosciuto anche l'Europa con la maglia di Reggio Emilia. Un talento notevole che lo porta ad essere considerato come uno dei migliori giocatori del torneo. Nessuna promessa né pronostici per il Cessista Bellinese, ben consapevole delle difficoltà del prossimo campionato. Sicuramente quest'anno mi ritrovo in una squadra in cui sono probabilmente il giocatore più esperto, soprattutto in questa categoria, quindi oltre a cercare di dare il mio apporto in campo come individuo, dovrò cercare anche di aiutare ancora di più i compagni, specialmente quelli che è la prima volta che giochino in A2, quindi sarà un doppio ruolo importante però che mi piace e che non vedrò l'ora di iniziare a fare. Giocatore finito nel milio di diversi club, ma la ferma volontà della società irpina ha fatto la differenza. Avellino è stata la società che ha dimostrato di volermi più fortemente, quindi questo secondo me è un segnale molto importante per un giocatore, essere voluto, essere desiderato da un club fa sicuramente piacere. Comunque è una piazza che appena viene da un campionato vinto sicuramente si porta dietro un certo tipo di entusiasmo. Infatti spero anche che il pubblico possa riempire il palazzetto e portare avanti l'entusiasmo che si è visto negli ultimi mesi dell'anno scorso. Nel frattempo l'Avelino Basket ha annunciato Gianluca Di Domenico che andrà a ricoprire il ruolo di club manager della società irpina. Di Domenico aggiunge alla squadra dirigenziale competenze ed esperienze che ha avuto modo di accumulare nel corso degli anni spesi nei club di Serie A, 2 e B. La nuova figura andrà ad interfacciarsi con le altre già esistenti all'interno dell'organico bianco-verde. Grazie.